Continua a bruciare l'entroterra albenganese in provincia di Savona, in particolare i comuni di Arnasco e Villanova di Albenga. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e attualmente gli sfollati sono 120. Nella notte è stata rafforzata la presenza dei vigili del fuoco e stamani è ripresa l'azione di elicotteri e canader. Di altro genere, ma comunque seria, la situazione in Val Badia, dove colate di fango sono scese dai rilievi verso le abitazioni, a seguito delle forti precipitazioni temporalesche. Intanto il maltempo si sta spostando anche al centro-sud, dove sono attesi temporali e rischio idrogeologico su alcune delle regioni interessate. La protezione civile ha deciso di estendere lo stato di allerta gialla per tutta la giornata di oggi a Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Marche, Toscana, Umbria e Calabria.